E beh ragazzuoli, io credo proprio che qui la situazione stia iniziando a farsi un tantino bollente Più che altro perché arrivano le prime conferme ufficiali Di fatto che se prima magari si parlava di un interessamento così abbastanza sul vago della Juventus Nel momento in cui si dice che lunedì ci sarà un incontro tra la Juventus e l'entourage del giocatore Per iniziare a valutare un pochino più nel concreto tutto quanto Beh effettivamente la situazione tende un attimino a cambiare Questo non ce lo possiamo nascondere e abbiamo diversi elementi a sostegno di questa tesi Ieri per esempio è uscita la notizia di Romeone dove la Juventus comunque ha chiesto espressamente All'entourage di Polpo Bà di far sapere se ci dovessero essere delle offerte per il giocatore In modo tale da valutare un attimino come muoversi Si parla attualmente di una richiesta iniziale del giocatore di un'undicina di milioni Diciamo così che comunque è pur sempre un abbassamento molto importante dello stipendio Considerando che al Manchester United ha percepito fino a poco fa E anzi tecnicamente sta continuando a percepire una ventina di milioni netti a stagione Praticamente la metà Solo che la Juventus vorrebbe ridurre ancora di più l'ingaggio del giocatore Considerando anche tra le altre cose che effettivamente ci sarebbe la possibilità In caso di contratto come minimo triennale di usufruire del decreto crescita Cosa che per ipotesi con Di Maria non potresti fare Perché appunto si parla di un anno singolo massimo di un biennale Dove appunto non scatta quindi la possibilità di usufruire del decreto crescita E vedremo che cosa succederà in effetti nell'atto pratico Adesso che sappiamo che ci sarà un vero e proprio incontro magari perché no Per passare forse che ne sai anche alle cose formali Se ci dovesse effettivamente essere l'intenzione da parte della Juventus Di andare verso le richieste del giocatore Anche se ovviamente come per tutti i contratti Si parte da una richiesta iniziale e di un'offerta iniziale Per poi no lavorarci su e magari trovare una via di mezzo Solo che allo stesso tempo c'è da dire anche un'altra cosa Che comunque non è banale Il Manchester United, Pogba ormai sembra palese che non lo voglia rinnovare Ma la principale contendente della Juventus è il Paris Saint Germain E viene da sé che insomma comunque la potenza di fuoco tra i due club È leggermente superiore no? Quella da parte del club parigino In più dobbiamo anche sempre sottolineare Purtroppo che ad oggi anche proprio il livello qualitativo delle rose È un pochino differente e va un pochino a favore del Paris Saint Germain E qui dipende effettivamente che cosa avrà effettivamente intenzione di fare il giocatore Pare che la Juventus punterà molto sul fattore affetto Considerando il trascorso di Pogba alla Juventus Dall'altra parte probabilmente punteranno molto di più sul fattore denaro E il giocatore dovrà decidere tra soldi e cuore E quando si parla comunque con tutto il bene del mondo di calcio Ecco si fa fatica a pensare alla seconda ipotesi Diciamoci un attimino la verità Tocca sempre ben sperare per l'amor di Dio Però è una situazione un pochino complicata da questo punto di vista Se mi consentite Anche perché lui andò via dalla Juventus ok Per tornare al Manchester United e tutto quello che vuoi Ma anche perché avrebbe percepito una cifra decisamente superiore Rispetto a quella che percepiva Torino Quanto gli abbia fatto bene al polpo Gbagba calciatore Quella scelta non lo so Vedendo quello che è stato poi il trascorso del polpo a Manchester Ecco Ok ci ha guadagnato A livello di soldi senza ombra di dubbio A livello di giocatore Non lo so E quindi magari anche questa cosa potrebbe andare a tuo vantaggio Se torni alla Juventus con l'idea di ritornare ad essere polpo Gbagba È un discorso molto importante D'altro canto Se dovesse accettare il PSG Andrebbe a prendere una barca di soldi Per fare banalmente il suo come fanno tutti L'ennesima figurina che si mette lì E tanti saluti Che cosa deciderà di fare non lo so Probabilmente lo scopriremo solo vivendo E scopriremo fin dove la Juventus avrà la possibilità E soprattutto la voglia di spingerci Di spingersi Sappiamo che a Pogba non dispiacerebbe assolutamente Tornare alla Juventus Poi però ci sono anche legittimamente delle richieste economiche Che nel suo caso potrebbero essere abbastanza sostraziose Questo comunque non ce lo dobbiamo assolutamente nascondere Certo è che comunque il mercato sta iniziando A farsi abbastanza vivo E poi per quanto riguarda il giocatore di per sé Io dico la verità Come ho detto anche proprio nel video di qualche giorno fa Sempre sulla vicenda Pogba probabilmente è un centrocampista Che per quanto sia in declino rispetto all'ultimo Pogba Della Juventus Ecco quanto meno Questo senza ombra di dubbio È un centrocampista che probabilmente darebbe il giro Alla stragrande maggioranza di quelli che ci sono attualmente in rosa In ciabatte e al 50% della condizione Questo non ce lo dobbiamo comunque nascondere Poi però devi vedere anche giustamente con quale testa Lui eventualmente torna a Torino Perché se ti torna così Giusto per tornare in vacanza Giusto per prendere un altro stipendio della Madonna Tanto sti cazzi Ecco è un bene Perché comunque sarebbe un centrocampista direi più che valido Probabilmente per il contesto Serie A In particolar modo per quello Juventus Però non sarebbe proprio il massimo Sempre per il discorso fatto qualche giorno fa Che se ok torna Pogba va benissimo Ma torna per fare Paul Pogba Torna per rimettersi in gioco Per rimettersi in discussione Per ridimostrare di essere ancora uno dei migliori centrocampisti europei Questa è la cosa che mi interessa di più D'altro canto c'è sempre anche il discorso infortuni Perché ormai sappiamo benissimo tutti quanti Che Pogba da un punto di vista fisico Quanto meno nelle ultime stagioni Non è che sia stato proprio affidabilissimo Poi certo Il più sarà anche capire magari quanti infortuni Siano stati veri E altri un pochino meno Però in questa stagione Ha saltato comunque che cos'è Tipo tre mesi e mezzo Quattro mesi tra una roba e l'altra Ed è importante Quattro mesi in una stagione Si parla più o meno di metà stagione fuori Che inizia ad essere importante Soprattutto se si parla del centrocampista di riferimento per te Nel caso in cui dovesse arrivare Perché in tutto questo noi dobbiamo aggiungerci anche il fattore Folletti Che non è proprio una cosa banale in questa Juventus Già con i centrocampisti In generale con i giocatori abbastanza integri Figuriamoci con quelli che arrivano Da quattro mesi di stop l'anno prima Ci potrebbe essere un pochino di paura Da questo punto di vista Ed è legittimo Però alla fine di tutto Pare proprio che la Juventus Questo Pogba lo rivoglia E che probabilmente Non dico farà di tutto Perché molto dipenderà anche dalle richieste del giocatore E fin dove la Juventus potrà spingersi Però cercherà in un modo o nell'altro Di riportarlo a casa E per il resto nulla Voi fatemi sapere qui sotto la vostra Con un commento Io vi mando un grosso abbraccio E tanto per cambiare Fino alla fine Forza Juve Ciao 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 Ciao